Adesso invece voglio creare una molla con terminali aperti però molati, prendo il disegno dal video precedente e semplicemente aggiungo le molature. Allora per fare questo devo creare una geometria di riferimento, un piano, lo faccio questo piano parallelo al piano frontale e come secondo riferimento coincidente a questo punto qua. E' totalmente definitivo, posso dirgli mi va bene. Adesso per fare le due molature ci sono vari modi, un modo molto interessante per esempio usare la funzione interseca, seleziono piano appena creato, il piano frontale e seleziono il mio oggetto, la mia molla. Crea entrambe e vado a cliccare intersezione. A questo punto vado a cancellare questa qua sopra e a cancellare questa qua sotto e mi rimane la mia molla con terminale aperto e molata. La mollatura segue la dimensione avendo creato questo piano qua col terminale, con una condizione, con la condizione finale al terminale della curva. Difatti se vado a modificare la mia elica e per esempio ti voglio fare con 4.25 rivoluzioni, 4.25, la mia mollatura segue l'abbassamento della molla.